Mamma Ciao da Datatag E da Gonzuta Bene, siamo tornati su Minecraft e ci accendiamo a finire la casa L'opera ha finito di bruciare tutte le argille per fare i mattoni Meno 20 Speriamo ci bastino Ma il tetto lo manteniamo anche quello in mattoni o facciamo un altro materiale? Lo saprei Facciamo un altro materiale No basta, basta così e ce la facciamo A me è bastato un mattone solo Anche a me Il tetto potremmo farlo dell'altro materiale Ci manca la parte qua di legno Ci manca anche quello con i legni della giungla Ok, è passata la notte Abbiamo fatto un piccolo taglio Adesso Andiamo avanti Allora, ci serve un altro pollo di ragilla perchè questa parte qua in legno dobbiamo toglierla Il tetto dobbiamo decidere in che materiale farlo Possiamo anche farlo di altro materiale Possiamo farlo anche di legno Il tetto Potremmo farlo di pietra? Ah, anche Allora Beh, intanto ci conviene andare a prendere un po' di argilla Un po' di argilla Io intanto abbatto un attimo gli alberi sti qua Della giungla Anche se Forse ci conviene andare in qualche grotta perchè non abbiamo più carbone praticamente In quale grotta andiamo? In quale grotta andiamo? Per mandare non è che sono già andati queste qui di fianco a casa Ok, vabbè quelle lì sono entrate e uscite Sì, vediamo se c'è un po' di carbone Ma qui non c'è proprio niente Io vado a destra Vabbè Niente Non c'è niente ste grotte Mi sa che abbiamo già preso tutto Ah, qui c'è C'è questa La discesa Beh, qui sopra c'è un po' di ferro Facciamo Che prendo comunque Un piccolo collegamento Vado a prendere il carbone Eccolo qua Prendiamoci tutto il carbone che troviamo Sì, ho fatto questo piccolo passaggio qua Intento a non cadere C'è il carbone che troviamo E prendo quello qua sotto Qua sotto ci siamo già stati sì, ci sono lì le nostre torce Sì, sì, sì Però qui c'è un apparecchio di carbone Bene Bene Prendiamoci tutto qua Guarda quanto ce n'è ancora sotto È una miniera tutta qua Uh Non si vede più niente Qua c'è anche un po' di ferro Guarda ancora Incredibile Abbiamo fatto la scorta con questa Sì, guarda Sì, guarda Molto bene Ottimo Risaliamo E proseguiamo 56 ne ho io adesso Risaliamo Ah, guarda qua Uno che è rimasto indietro Andiamo Io ne ho 28 E rieccoci fuori Eccoci Nuova superficie Vado a battere gli alberi della giungla Così prendo il legno Ok, vengo con te Allora dai Andiamo A prenderci Sì, l'argilla Spero rilasciano Quali carboscello qua Perchè Mettiamo la prova alla fine Anche su questa spada di pietra Che ormai è così distrutta Beh intanto abbatto anche questo Un carboscello ma è già sceso Quindi Come lo possiamo rimpiazzare? Eh, ne buttano pochi Beh, non serve perché stai lì a cavarvi ogni foglia Intanto andiamo a prendere l'argilla Torniamo qua dopo Ripianto l'arbuscello E siamo pronti Andiamo Andiamo alla cerca di altra argilla Magari Se troppo lontana velocezziamo un po' questa parte Perchè appunto non penso sia troppo divertente A vederci tirare la sua argilla dai fiumi Non ce ne serve proprio troppo Alla fine ci manca poca cosa Poca cosa Commentate voi se volete vedere qualcosa in particolare Fatta da noi appunto qua su minecraft Perché magari le idee poi scarseggiano Oppure non vogliamo correre troppo e quindi non sappiamo più cosa far vedere In modo tale che poi vi divertiate nel ricordarci Quindi consigli e commenti su cosa volete vedere sono sempre ben accetti Già Mi raccomando commentate numerosi Diteci quello che potete vedere, quello che vi piace E noi senteremo di soddisfarvi Eccoci qui abbiamo preso un bel po' di argilla Lo riportiamo a casa Per metterlo a fuoco Guarda qua i maiali prima che li cercavamo non se ne trovavano Si infatti Bene siamo quasi a casa Poi finiamo la casa e dopo Finita la casa Dovremmo decidere che cosa fare di nuovo Già Ok Qui abbiamo un po' di carbone Sta già diventando sera Già Infatti adesso Andiamo a dormire Ok Ok Allora Allora metto giù un paio di robe Bene Pasta la notte Lasciamo qua bruciare Ergille Eccoci qua Intanto che brucio la argilla per finire la casa Andiamo nell'orto Vediamo se c'è Sì c'è un bel po' di roba Guarda che bello orticello Eh là là Voi io prendo su le patate Voi prendo su un po' di grano Cioè dovremmo farci le scorte Dato che brucieremo anche queste cose qua Le patate per fare le patate cotte Sto ripiantando il grano Anche con le patate fatte Mi occupo delle Ecco qua Quel po' di patate Mi occupo delle carote Vedi? Potrei tirar su un po' quelle zucche Beh dai l'orto è venuto bene Già E' anche abbastanza abbondante Ok Qui ci sono alcune zucche che non vogliono crescere Però lasciamolo Lì intanto Metto le patate a cuocere qua Che ce ne erano già delle altre Una Ecco qua Raccolto completo oggi Ah è già ricresciuta una zucca che ho appena tolto Eh 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 Ok sono lì 64 patate che sono Al fuoco Bene Risoliamo Vediamo che appunto è anche la ragilla Che magari Finiamo la La casa Un deco carote Dò un po' da mangiare ai maiali Che sono pochi Ok Facciamo fare l'amore Ai maialini Eccoli qua Fatto Guardali che contenti Mi hanno troppato anche punti esperienza Sì ma non è venuto fuori niente Ah si guarda Sì eccoli ci sono ci sono Perfetto Abbiamo anche un po' di argilla Intanto raccogliamo questa Cominciamo a costruire quella che c'è Qui c'è un po' di casino Qui c'è un po' di casino Ti do la tua metà poi Ok Ecco Tieni Undici Ok Sì sì c'è ancora tanta lì che devo bruciare Quindi intanto abbiamo questa Un attimo un attimo Un messaggio Sto con i legni che avevo Sto sfasciando La casa io intanto La facciata la lasciamo di legno Mmm O fosse un po' tutto tutto mattone Con me non viene tanto bene non solo la facciata di legno Allora abbattiamola Allora abbattiamola Ok Via tutto Faremo gli interni in legno Beh le zucche però Le zucche ormai possiamo anche lasciarle Sono porte della Sì 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 Della casa Potrò farci le finestre Quindi un po' di mattoni Vengono fuori anche da lì Già Sennò diventa un bunker Più che una casa Sì fatte Ok Ok Queste pareti intanto le demolisco Sì tanto ormai quelle Anzi Ci mancherebbe il tetto Beh intanto metto giù un po' di legno Della Della giungla Direi Ok Ancora due blocchi di argilla E ci siamo Ottimo Poi non serve Beh finiamo di bruciarle Ma poi non serve più avere fretta Ok Le mura sono finite Ottimo Allora finiamo il pavimento Qua oggetti volanti Incredibile Ho rotto un letto Eccola qua Le mettiamo anche la porta d'entrata Ah Mi ero bloccato in qualche modo Ok dovrebbe essere tutto a posto Perfetto Forse questo è meglio toglierla E guardate Guardate che caso spettacolare Cioè Non so Ma Qua Una di tre Gaming and tech Potrebbero chiamarsi e fare gli architetti Eh già Ops Ho perso la La mia accetta Anche un po' Un po' i muratori E Ci siamo Ci siamo Senza tetto Manu il tetto non serve Anche se in realtà Un po' si Ok La casa c'è E noi con la casa Che c'è Vi salutiamo Il prossimo episodio sarà Metterci un tetto sopra la testa E magari Inventarci qualcosa di nuovo Voi Commentate Quello che volete vedere Mi raccomando Fatecelo sapere Perché sennò Ci troviamo in difficoltà anche noi Man mano che siamo avanti E Datatag Edagonsuto è tutto Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti